Questa è la delibera del Consiglio Comunale di Avigliana, il primo comune della Val di Susa, a valutare il documento finale dell'osservatorio tecnico sulla TAV. Si legge che l'amministrazione non lo approva perché lo ritiene profondamente squilibrato e perché elude la risposta al CETAV per concentrarsi invece su come realizzare l'opera. Abbiamo detto no a questo documento perché in ogni circostanza democratica ribadiremo il nostro tunnel di base e le nuove infrastrutture. Ma il nostro non è un no ideologico, è un no che nasce dai dati dell'osservatorio, dall'impostazione della proposta a fare, che ci dice che il tunnel di base e la nuova infrastruttura sarà forse necessaria tra 30-40 anni solo a determinate condizioni e che ci sono altre priorità per usare quello che già esiste della Torino-Liona, cioè la linea storica. In questi giorni anche gli altri comuni della valle sottoporranno il documento al vaglio del Consiglio Comunale in modo tale da avere un quadro completo per il 29 luglio, giorno in cui è stato convocato il tavolo tecnico sulla TAV a Palazzo Chigi. Massimo Postiglione, Sky TG24, Avigliana, Torino.